Giorno a tutti ragazzi, qui c'è voi, Craco52 Oggi siamo su un nuovo gioco Besige Per chi non conoscesse, per chi non sa chi è Besige In questo gioco bisogna costruire delle robe per distruggere degli edifici Dei veicoli per costruire, adesso diciamo Io non ci ho mai giocato, non so come funziona, ho visto solo dei video su Youtube Allora, dobbiamo distruggere questa cosa Facciamo qualcosa di semplice intanto, tipo questo Così Facciamo un quadrato Ma porca me Facciamo un quadrato Quindi Un altro Ok Poi Facciamo tutto questo Così E così Ok Adesso mettiamo le ruote E Cavolo Distruggiamo questa roba Ok Guardate Ok Quindi questo livello era una boiata assolutamente Adesso Ecco Dobbiamo distruggere il mulino che è sopraelevato Quindi Facciamo così Facciamo così Facciamo così Tra le machine Stiamo un po' più in giù perché sarà un casino Ok Su Su Un altro Un altro Magari un altro Adesso Poi prendiamo uno di questi Chiudiamo Sta in piedi vero? Ok sta in piedi Mettiamo Weaponry Eh Metal Blade Che so Esageriamo un po' Per distruggere un mulino Ok Andiamo avanti No Dai Non ci arrivo Non ci arrivo Eh Ho fatto esplodere un po' No Allora Togliamo tutte queste roba Perché non servono niente Ok Ok Armor Blocchi Blocchi Così Ok Ehm Adesso ci mettiamo le blade Così 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 Ecosì Ok Avantì Oh No Cavolo Era così difficile Era così difficile Non so Andiamo avanti Ecco Distruggiamo tutto Da Slead Machine In In gioco Quindi Dobbiamo andare Dobbiamo andare là Senza morire Come dei deficienti Quindi Dobbiamo fare una specie Di macchina Di qua E di qua Vediamo un po' si gira Sì Sì Vabbè dai proviamo Facciamo il giro largo Perché non siamo scemi Andiamo Ah No Le pecore Aiuto Mori pecora No No E U Gira U Vuota Che Oddio C'è Ma Eh No Ok Cerchiamo di fare le cose un po' più piccole almeno Togli questo, togli questo, togli tutto Quanto Cerchiamo di farle un po' più cose C'erano quasi Porca Ok Così Così E così 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 Togliamo tutto Ok Facciamo così 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 Magari anche da due Ok Però C'è sterza malissimo E' qualcosa di orripilante Pecora muori E' qualcosa di orripilante Com'è che sta Madonna Allora Guarda com'è che sterza male Sterza malissimo Allora C'è una mina là C'è una mina là Non sbaglio Madonna Ah Allora Perché non sterza Magari Per Così Così sterza meno E' Allora C'è sono bloccato Già il livello Deve sterzare Non è possibile Allora Se tu Se tu Cristo Devi sterzare Se una persona Deve sterzare Vai 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 Ce la puoi fare Ok 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 A fare Manovra In un Modo Ho una fatica incredibile Ok Ok Dai 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 Sì Sì Madonna cara Sì E rompiti pure Rompiti Rompiti Esplodi Non sono neanche Non sono riuscito neanche a fare Vabbè andiamo avanti Distruggi distruggi Va bene Va bene Va bene Beh no Non tutto Togliamo questo magari X Togliamo questo e questo Anche questo non serve Questo Questo Qua Mettiamo Le robot Le ruote Probabilmente sto facendo una Una boiata incredibile Probabilmente Facciamo le ruote sterzanti Guarda Sono qua Sono qua le bestie mie partono E non è bello Ehm Locomotion Seri Will Questo E questo E questo Poi le ruote E questo Non riesce a stazzare adesso No Non riesce a stazzare Togli 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 Ok Adesso dovrebbe riuscire a stazzare Ecco Adesso riesce a stazzare Cosa cazzo è successo? Ma scusa Si che ho fatto così Perché implode qualunque cosa? Ok Togliamo tutte ste armature di merda Non serve a niente Togli 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 Ah ma è questo che fa implodere qualunque cosa Guarda Adesso funziona No Non funziona un cazzo Togli tutto Forse è questo che intrecciava E poi cade Ah Proprio l'intelligenza pari a quella di un carciofo Ok Funziona 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 Fermo Oddio che cazzo succede? Ok Funziona 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 Oh C Ci Mori Quindi adesso possiamo anche Calmo 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 Si vabbè Ciao Un pezzo Un pezzo No 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 Mi smaciulle la vita Ok Ci siamo quasi Ok Aspetta E' più difficile giocare a questo gioco che I need for speed Ok Quindi se io adesso faccio Sì 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 No 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 Ok ho capito ho capito Basta aggiungere Sì Armi E C'è lì Metaspetta E' più difficile Flamethrower Ecco Ehm Prima devo fare Perfetto Con Y C Ok Esploma Apriamo Non c'è l'unca Non c'è l'unca Non c'è l'unca Non c'è l'unca Niente Ok Ok No Cristo Va bene va bene va bene Va benissimo Di che ce n'è uno va bene tutto Andiamo prima dal fuoco a questa roba No 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 Vabbè Ehm Echì Brucia male Sì 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 Brucia Sì Cristo Dio Sì Benzora Facciamo questo dopo Basta Veramente Mi sta venendo Male Male Da vita Ah Ok Adesso si comincia a fare su serio Allora Se io voglio fare qualcosa di veramente suddolo Voglio fare così Allora Adesso che questo cubo è stato implementato Possiamo cominciare a fare weaponry Ehm Cannone Cannone qua 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 Un po' a caso Ho sbagliato tutto Facciamo qualcosa di più semplice Ok ragazzi Ho finito Proviamo Quindi C e Y Ci Ehm 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 Dai adesso adesso si suiciderà Oh mio dio che bordello Qua si è impagato Perfetto Non so cosa 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 sta succedendo Va bene Next zone Va bene va bene Basta Come si fa Level select Quindi ragazzi Io direi che Per questo appuntamento di Besige Abbiamo Concludo Mettete mi piace Iscrivetevi E ci rivediamo